E' un presidente molto coraggioso che forse all'estero non ci aspettavamo così coraggioso e forse neanche gli ucraini si aspettavano, insomma era un volto nuovo della politica senza meno strutturato di altri politici che hanno governato in passato ed è l'uomo che ha scelto di non scappare, ha scelto di non spostare il governo in esilio che si veste con i pile verde oliva, che ha dismesso la giacca e la cravatta che chiede aiuto a tutto il mondo, anche cose che sa, su cui conosce la risposta la no fly zone è qualcosa a cui tutto l'Occidente compattamente la chiede perché la sua priorità è che i missili non arrivino sulle città ucraine e in questo momento lui un po' egoisticamente potremmo dire capendolo ha la priorità di quello che succede dentro i confini dell'Ucraina al suo popolo e alle persone che deve proteggere E di ultradestra? E' appoggiato nel suo paese? E' assolutamente appoggiato nel suo paese L'ultradestra ha minacciato colpi di Stato contro Zelensky L'ultradestra ha detto che non era abbastanza duro con Putin Zelensky è un nemico dell'ultradestra Ucraina che ha sempre contato sul fatto che c'era la minaccia di Putin per dire che Zelensky non è abbastanza tosto dobbiamo arrivare al governo noi E Zelensky è venuti lontani dal governo Credo